E eccoci collegati con Buongiorno Friuli, buongiorno a tutti, ben ritrovati al momento della rassegna stampa delle testate sportive. Andiamo a vedere quali sono le notizie di quest'oggi. Ovviamente si parla del risultato di ieri sera della partita, l'altra semifinale dei mondiali fra Croazia e Inghilterra. La prima ha avuto la meglio, 2-1 il risultato finale, quindi la finale sarà fra Francia e Croazia con i croati che approdano per la prima volta questo importante traguardo. Ma si parla ovviamente anche di mercato, si parla di mercato italiano, dell'acquisto della Juventus di Cristiano Ronaldo, ma si parla anche di Udinese, di tutto quello che sta succedendo in casa bianconera. Allora cominciamo con le testate nazionali, partiamo con la Gazzetta dello Sport, vediamo le prime di quest'oggi con il sorriso di Cristiano Ronaldo, una promessa per il pubblico juventino, ma non solo. Ci vediamo lunedì, la presentazione show sarà appunto lunedì all'Allianz, quindi al Juventus Stadium, fissato il Ronaldo Day, mentre l'Italia lo aspetta. Intanto la Gazzetta è andata in Grecia a scoprire dove Cristiano, in una villa da 24 mila euro a notte, passa le vacanze con Giorgina e la famiglia. Vacanze che comunque si concluderanno presto perché lunedì ci sarà questa presentazione in puro stile NBA, appunto lo stadio come Hollywood, dice la Gazzetta per il giocatore, l'acquisto del secolo per la squadra bianconera. Allegri è felice, Champions secco, ci dice l'allenatore della Juve, intanto code per la maglia, la 7 ovviamente va a Ruba, il sindaco Appendino già apre le porte della città. Torino lo conquisterà. In taglio alto lo vedete l'esultanza di un altro Juventino, Marione Mandzukic, con in questo caso Perisic, l'abbraccio fra Juve e Inter per una Croazia da sballo. Perisic e Mandzukic, gol storici, finale domenica contro la Francia. Piange l'Inghilterra che viene rimontata ai tempi supplementari e poi appunto eliminata. Un successo per la Serie A, dice l'analisi della Gazzetta dello Sport, il talento va al potere, la Croazia va in finale. Per tornare a parlare di mercato, De Vrij parla da leader, Inter è fatta per vincere, l'olandese non nasconde le ambizioni, Eder va allo Jansu e se Dembélé non va in Cina potrebbe eventualmente approdare. Intanto sono ore caldissime per Sarri al Chelsea che dovrebbe portarsi anche Giorginio, Ancelotti è il centravanti del Napoli, dice Aurelio de Laurentiis. Il nuovo tecnico deve fare i conti anche con un infortunio, quello di Meret, del Friulano Meret, che si è rotto l'Ulna, ha un braccio rotto fuori per quasi due mesi. La brutta notizia, la brutta tegola che è arrivata per il giovanissimo portiere Friulano. Qui vediamo anche le notizie degli altri sport, Federer cade giù dal trono, dà la fatica su Del Potro, sorpresa ai quarti e allo Svizzero, otto volte vincitore di Wimbledon, eliminato da Anderson, lo spagnolo in cinque set conquista invece la semifinale. Il re Roger Federer ha abdicato e alla ventesima partecipazione a Wimbledon. Poi Sagan al tour vola ancora, Anibali sempre da battaglia, bis del campione del mondo allo sprint, Vincenzo tenta il colpo nel finale. Leggiamo anche il rompipalone di Genegnocchi che torna sull'acquisto di Cristiano Ronaldo, prima dichiarazione in bianco-nero. Amo l'Italia, sono qui per la vostra arte, la vostra storia e anche la vostra flat tax, la battuta di Genegnocchi. Ci fermiamo un momento, dopo torneremo con le prime pagine di quest'oggi perché abbiamo l'ispettore Maria Teresa Rossini della Polizia Municipale di Udine. Buongiorno, com'è la situazione di traffico quest'oggi? Buongiorno e ben trovati agli ascoltatori di Udinese TV. La viabilità in questa giornata è tranquilla, non ci sono notizie da segnalare. Ricordiamo che permangono le chiusure quelle più importanti in città, quindi su via Poscolle e su via Grazzano. Inoltre si ricorda che oggi è la solennità dei Santi Patroni Ermacora e Fortunato. Pertanto alle 10.30 presso il Duomo di Udine si terrà la celebrazione solenne da parte dell'Arcivescovo Mazzocato per quanto riguarda appunto i Santi Patroni e alle 17.30 presso il Caffè Contarena avremo un incontro culturale dal titolo 12 luglio 2018 che è una celebrazione laica dei Santi Patroni e interverranno lo storico romano Alfredo Maria Barbagallo e il professore Alberto Travain. Ricordiamo anche alla cittadinanza che essendo appunto la festa del Santo Patrono gli uffici pubblici non manterranno gli orari normali ma potrebbero sovvire delle variazioni. Verranno mantenute sempre le urgenze anche presso l'ospedale e presso altri enti come Tribunale, Procura e anche presso i nostri uffici di via Girardini. Chiederei un'altra precisazione riguardo ai lavori e alle asfaltature. Ci sono stati alcuni disagi nei giorni passati per le asfaltature in via Lungheria. Queste si sono fermate, sono terminate. Com'è la situazione per chi percorre il centro? È un momento un po' difficile perché fra via Grazzano, via Poscolle Chiuse e anche via Lungheria non si sa bene quale direttrice percorrere. Allora, l'importante è fare diciamo la circonvariazione interna, cercare di non passare appunto. Via Poscolle ormai permane da parecchio tempo e lo avremo fino a settembre. Tale cosa vale anche per via Grazzano. Altre cose, al momento oggi i cantieri probabilmente i maggiori sono sospesi appunto per la celebrazione della solennità del Santo Patrono e di conseguenza non dovrebbero esserci grandi problemi di viabilità. Benissimo, grazie. Buon lavoro e buona giornata a Maria Gabriella Rossini e alla centrale operativa della Polizia Municipale. Abbiamo visto più o meno quali sono i punti caldi del traffico in città. Adesso ritorniamo a vedere le testate sportive. Cominciamo con il Corriere dello Sport. Dopo la prima della Gazzetta, l'anticristiano è lui, secondo Aurelio De Laurenti, il centravanti del Napoli. E Ancelotti che è subito l'opposto del fenomeno. Le sue parole caricano Napoli. La Juve non è il potere e noi non siamo qui per pettinare le bambole. Non temiamo CR7. Partiamo invece per vincere. Così ha parlato Ancelotti, il nuovo tecnico del Napoli, che carica il suo club e i suoi tifosi senza avere paura del nuovo mega acquisto per la Juventus. La finale del Mondiale è una finale all'italiana, così dice il Corriere dello Sport. Perisic e Manzucic estendono l'Inghilterra. Domenica la Croazia sfiderà la Francia di Matuidi Pogba. E De Champa, Mosca, ci saremo anche noi, si legge sul Corriere. Una magra consolazione per i tifosi italiani. Per parlare ancora di Napoli, o meglio di ex Napoli, il Chelsea porta avanti il piano per arrivare a Sarri, anche se De Laurenti se non libera il tecnico. Giorginho precederà però Higuain. Secondo le indiscrezioni, l'Italo brasiliano sbarca a Londra, 65 milioni, morata per ora. Blocca il Pipita, queste le mosse di mercato. E poi ancora Federer con la sua caduta a Wimbledon diserbato. Si legge, Roger è stato battuto da Henderson, Nadal rischia grosso ma poi finisce per piegare dell'epotro. Vediamo anche tutto sport con ovviamente la celebrazione dell'acquisto della Juve. Juve, tifosi in delirio, ci arrestate da Cilla Champions, ti vogliamo così esplode la Ronaldo Mania. Salto agli Juve Store per la maglia numero 7. Con lui la Coppa è possibile, le parole di Allegri. E poi invece la risposta di Ancelotti che non si è fatta attendere contro Cristiano. Sarà più bello vincere. Poi la presentazione anche in casa Inter di De Vrij. Poi vediamo al Toro, Petracchi garantisce altri colpi. Il DS a Bormio, un vertice con Mazzarri. La svolta per il Milan con il fondo Elliot. Una svolta in 4 punti. Fassone resta, arriva ancora il no di Maldini. E poi l'Atalanta prende Zapata, i tifosi della Samp però si infuriano, non la prendono affatto bene. Poi l'urlo di Mandzukic dopo il gol del 2-1 che consegna la finale del Mondiale, della Coppa, alla Croazia. Andiamo a vedere anche le testate locali. Parliamo adesso di Udinese ma non solo perché l'apertura dello sport di oggi sulle Messaggero Veneto torna a parlare di mondiali. Mondiali però ormai passati, in particolare quello dell'82. Fra i protagonisti di quella storica vittoria c'era anche Bergomi che dal Mondial a Cristiano Ronaldo dice come siamo cambiati in questa intervista che apre la pagina sportiva di quest'oggi delle Messaggero Veneto. Il campione dell'82 era a Tarvisio per il camp di Maurizio Gans e ha voluto parlare di tanti argomenti. Tornando su quella vittoria a Mondial, un esempio è quello del tecnico Berzot, dice Bergomi, era avanti di 20 anni e oltre a un tecnico era anche un educatore. Ma poi ha voluto parlare anche della maglia azzurra, di quella vittoria speciale, della chat che ha anche con gli ex compagni di allora, visto che si sono celebrati appunto 36 anni da quella vittoria proprio ieri sera. Era un po' incosciente, dice Bergomi, quasi inconsapevoli della portata di quella vittoria. me la sono gustata con il passare degli anni ed è servita anche ad addolcire le successive delusioni. Si parla ovviamente delle altre ferite, quella aperta, ovviamente, quella di Italia 90. Ero il capitano, la gente accompagnava il nostro pullman dal ritiro di marino all'Olimpico di Roma, poi la maledetta serata di Napoli. Meglio non ricordarla. Poi ha parlato anche di come è cambiato il calcio, è cambiato due volte. La prima con la legge Bosman, si legge che dal 95 poi si fece sentire qualche anno dopo quando avevo smesso di giocare. La seconda volta è stata invece dettata dalle tv che hanno inciso sulle entrate del club. Il rapporto tra i giocatori e la gente è ovviamente cambiato con tanti schermi che impediscono a questi ragazzi di parlare, di confrontarsi. Non sempre, dice, per mancanza di volontà. Un mondo virtuale è uno spettacolo più che uno sport, dice Bergomi. È il calcio del fatturato, vince chi ha il bilancio più ricco e virtuoso, ma di questo passo si rischia di vincere sempre gli stessi e di veder vincere sempre gli stessi e suggerisce anche qualche premio concreto che sia capace di premiare i risultati del campo e quindi gli investimenti delle proprietà. È un peccato il calcio italiano, ad esempio, ha bisogno delle due milanesi, dice Bergomi. Il peso di quelle maglie, con tutto il rispetto per il grande lavoro che stanno facendo Napoli e Roma, è diverso. Lui ovviamente come commentatore Sky non vede l'ora di vivere una stagione ancora più interessante per l'arrivo di Cristiano Ronaldo. Mi piace pensare che tutte le avversarie faranno a gara per fare bella figura contro di lui. Non solo le blasonate, ma anche le provinciali. Una volta nel campionato italiano, dice Bergomi, era difficile fare il risultato ovunque, anche per le prime in classifica. Il consiglio che dà l'Udinese, il consiglio che vale per tutti, deve ripartire dai giovani, come ha fatto l'Atalanta. Il consiglio di Beppe Bergomi, che appunto rappresenta Tarvisio per il camp di Maurizio Gans, che adesso può guardare al futuro. Il prossimo anno tappe a Milano e in Calabria. In due settimane hanno aderito all'iniziativa dell'ex calciatore circa 100 ragazzi e ragazze, ma ci sono stati anche dei camp in Svizzera, a Vicenza e a Trento. In totale 270 giovanissimi che hanno voluto giocare al camp proprio di Maurizio Gans. Poi vediamo le notizie anche di Udinese, la pubblicazione di ieri sul sito dell'ufficialità di Juan Musso e poi martedì il test a Nova Goriz, nella prima parte di giornata. Il tecnico spagnolo ieri ha imbastito delle sfide in superiorità numerica, su campo ridotto per cercare di plasmare il 4231. Ieri poi l'Udinese ha annunciato ufficialmente l'ingaggio del portiere argentino Juan Musso, per vedere che fisionomia starà prendendo la squadra. Una rappresentativa regionale alle 18 di sabato incontrerà i bianconeri e martedì 17 alle 18 invece abichevole contro il Nova Goriz. Poi per il mercato queste le voci, secondo il messaggero veneto, posto bus a casa Milan, offerta per Gustavo Gomez. L'ipotesi rimbalzata ieri dalla Sud America nei confronti del difensore classe 93 che era corteggiato anche dagli argentini del Boca, che tuttavia non era in grado di garantire un ingaggio all'altezza del paraguaiano ex Lanus. Prade infatti sta già lavorando proprio per portare a Velasquez nuovi giocatori. L'ex Duvan Zapata invece intanto è passato dalla Sampa all'Atalanta, 12 milioni per il prestito biennale e altrettanti per il riscatto. La cessione del centravanti colombiano adesso potrebbe chiudere la porta all'Udinese nel possibile inserimento a Fabio Quagliarella, visto che i Doriani non riaccoglieranno Eder dall'Inter. L'attaccante italiano-brasiliano infatti ha accettato la proposta del Jiangsu, un possedimento di Suning in Cina. Poi l'analisi di quest'oggi sul calcio italiano di Bruno Pizzul è dedicata all'effetto di Cristiano Ronaldo. La Juve vende già una maglia al minuto. Poi qui qualche breve, abbiamo visto Sarri verso il Chelsea, ma ancora non c'è l'ok di De Laurentiis. Alvaro Raton del Saragozza è nei guai sotto accusa per tentata aggressione sessuale ai danni di una ragazza, arrestato e poi rilasciato. Avrebbe cercato di baciarla e toccarla. E poi merete la brutta tegola sul portierino friulano. Brute notizie, il portiere si è fratturato. Il terzo medio dell'Ulna, l'avambraccio sinistro per il friulano. Stop tra i 45 e i 90 giorni circa. Andando sempre avanti con il messaggero Veneto, si parla di mondiale. La Croazia fa la storia. Manzuki c'è l'eroe. L'Inghilterra parte a mille e poi si illude per il gol su punizione di Trippier. Poi il pare di Perisic e nei tempi supplementari la stoccata di Super Mario su una dormita generale della difesa inglese che l'ha tenuto in gioco e poi non è stata lesta a fermarlo. Un vero gol di rapina davvero falcodare a quello di Super Mario Manzuki. La Croazia a questo punto va in finale più concreta nel momento clou. incontrerà la Francia e qui vediamo proprio il momento in cui Manzuki batte Pickford nel secondo tempo supplementare ieri sera. Cabrini però fa il suo pronostico. I francesi sono forti ma non sono i favoriti. Il terzino dell'era Berzot ha parlato anche del Miraculum TT alle speranze francesi. il Barça lo ha fatto svoltare, un difensore di altissimo livello. La Francia fa paura, è una squadra forte e completa ma nulla è detto fino all'ultima partita. Prima di lasciare il calcio di Serie A e il calcio dei mondiali andiamo a vedere anche la pagina del Gazzettino. Dopo poco tocca a Pussetto l'accordo è ormai trovato. L'attaccante dell'Uracana è pronto ad affiancare i compagni di reparto. Lasagna Viseu ed Evandro, il prezzo di Esteri Clievita si allontana. Su di lui anche i francesi del Saint-Etienne. Qui vediamo il punto di mercato sul Gazzettino. A firma di Guido Gomirato nella foto. Secco Fofanai e Rodrigo De Paul che potrebbero però essere in partenza. Ma siamo addirittura ad arrivo. Si legge al massimo uno o due giorni. Poi Ignacio Pussetto, 22 anni, attaccante dell'Uracana, firmerà per l'Udinese. Del resto il diretto interessato ha già dato il suo ok al trasferimento. Udinese e Club Argentino sono sostanzialmente d'accordo sul valore del cartellino dell'attaccante. Poco meno di 8 milioni. Vanno solamente definiti alcuni dettagli dell'operazione e forse anche il bonus in base alle gare e goal segnati dal sudamericano. Attaccante di 180 centimetri di altezza che agisce prevalentemente seconda punta o più defilato. Pussetto nell'ultima stagione con il Club Argentino ha segnato nove reti. Ma quel che più conta è che è stato uno dei migliori dell'Uracana. ha dimostrato di essere attaccante completo, dato di buona tecnica, potente e veloce con il suo arrivo. Il reparto offensivo sembra a posto. Ci sono Lasagna, Machis, Viseo, Pussetto e eventualmente anche Evandro rientrato per fine prestito dall'Estoril. Come del resto anche Lucas Evangelista. Si attende l'ufficialità dell'acquisto del difensore centrale ganese. Opoku che ha concluso l'iter delle visite mediche di questo giocatore. 21 anni l'11 agosto si è soffermato brevemente il suo connazionale Bado. Un giocatore interessante, gran fisico, agisce da centrale ma anche da terzino. Ha un buon piede, è un atleta che sa il fatto suo. Nicolas Opoku dovrebbe firmare un contratto quinquennale. Si allontana invece Valentin Eiseric. Diversi estimatori per il centrocampista esterno Viola. L'ultimo dei quali è il Saint-Étienne. 10 milioni parrebbero troppi per la società friulana. Di conseguenza Rodrigo De Paul potrebbe anche rimanere a Udine. Poi vediamo Meret appunto finisce in infermeria. L'estremo difensore neoacquisto del Napoli ha subito un infortunio in allenamento. Frattura dell'ulna dell'avambraccio sinistro e una tegola per il portiere del Flambruzzo. Ricordiamo anche che Meret si legge sul gazzettino nell'aprile scorso ha subito una sublussazione alla spalla sinistra. Poi i saluti per Pizzarri. Il portiere argentino ha salutato ex compagni di squadra, tecnici, sanitari, fisioterapisti e magazzinieri. Ha ritirato il suo corredo sportivo. Ha augurato a tutti in bocca al lupo. Ci sono stati alcuni contatti da parte di club italiani. Si sono stati vivi anche dalla Turchia e dalla Svizzera. ha detto non ho ancora deciso quale sarà il mio futuro. E qui vediamo a proposito di portiere un approfondimento tra Musso e Gasparini, il presente e il futuro tra i pali. Il primo ufficializzato, il secondo a 16 anni firma il suo primo contratto da protagonista. Il friulano di Flaibano ha firmato il primo contratto e ha vestito i colori bianconeri fin dai pulcini. Questo è Manuel Gasparini che ieri abbiamo anche sentito in un'intervista all'interno del nostro notiziario. Pradè dice così sui due portieri, Juan è molto reattivo, Manuel è un giovane su cui l'udinese ha fatto l'investimento, fa parte anche del nazionale Under 16. Sempre per il calcio, in questo caso per il Pordenone Nero Verdi, la società cresce, entra un nuovo socio, dice Lovisa e il presidente gioca a tutto campo. Tessera è un grande professionista ma anche un amico. Ho imparato che se devo scegliere tra divertirmi e vincere preferisco la seconda possibilità. E poi si parla anche del ritiro. Gerardi intanto allunga il contratto, Barisoni invece ha firmato, quindi si vanno a comporre le tessere del puzzle del Pordenone. Tessera, Maradona, Zico e i bravi ragazzi, l'intervista al nuovo tecnico del Pordenone, ha giocato a fianco del Galigno, ma a volte ho pagato la mia normalità, dice Tessera. L'insegnamento del padre, i 35 anni con Nicolette. Qui vediamo qualche foto del nuovo tecnico del Pordenone, un nome sicuramente importante, che ha calcato il palcoscianici, sicuramente nobili del calcio italiano, il sessantenne, eccolo qua, con la moglie Nicoletta Marinato e la figlia Carolina a casa e anche allo stadio. Vediamo anche alcune notizie riguardo le altre discipline sportive. Sorpresa per Rossit che vola a 1,90, un'impresa spagnola dell'altista friulana, l'amica rivale Trosti invece si deve accontentare. Qui vediamo Desiree Rossit in maglia azzurra durante un salto, ieri appunto ha raggiunto l'1,90. Vediamo anche il Messaggero Veneto con le altre notizie delle discipline sportive. Torniamo sulle pagine del Messaggero e qui abbiamo appunto il ritorno della grande atletica con i risultati di Lignano, show sportivo e solidale. La capitale è ancora la località baldeare friulana, ancora un successo per il 29esimo meeting con campioni giamaicani e americani. L'evento è stato preceduto anche dalla serata benefica a cena con i campioni. Il gruppo dei giamaicani è solido a Lignano, ottimi i risultati di ieri. Le due friulane emigrate da una terra di campioni si parla delle saltatrici in alto e qui vediamo Desiree Rossit tornata a saltare 1,90 vincendo in Spagna il meeting internazionale di salti. Male invece Alessia Trost che ha superato soltanto l'1,84. Ora l'Italia ha tre azzurre col minimo per gli europei e dovrà scegliere. Fra queste infatti c'è anche la Vallortigara. Tavagnacco avrà un nuovo logo con la giunta delle Friuli, si parla di calcio donne, sempre per le donne ci sarà un weekend con il giro di Italia Rosa ma anche bambine e veterani. E infine in tema di sponsorship e di grandi campioni la Nike sbarca a Udine in casa GSA sarà l'unica squadra italiana con il baffo Copain torna in America strappa un contratto che potrebbe però portarlo a giocare addirittura nella NBA. Con questo noi ci fermiamo. Grazie per averci seguito. La nostra rassegna stampa quotidiana è terminata e vi auguriamo una buona giornata insieme. Modine News TV Grazie a tutti.